Ciao ragazzi, eccoci ad un nuovo unboxing con soldi privati. Si tratta di una polo di marca Galvanni di colore rosso e pagata 26 euro su per giù. Apriamo il facco. Pagata 26 euro su per giù. Galvanni di colore rosso e taglia M. Pagata 26 euro su per giù. Vediamo la qualità della maglia. Il tessuto è bello consistente. Qui c'è il logo Galvanni. Pagata 26 euro su per giù. Pagata 27 euro su per giù. Sul collo nessun disegno particolare. Questa è la rifinitura interna del colletto. Pagata 27 euro su per giù. Pagata 28 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 euro su per giù. E' più corta davanti, le rifiniture interne, come che richiamano il colletto, all'interno c'è il bottone di riserva. Vediamo il retro, il retro è liscio, e qui una cucitura semicircolare. Questo è il lavoro, per il prezzo pagato devo dire che è molto soddisfacente. Questi sono i cartellini, 100% cotone. Bene, per oggi è tutto, al prossimo unboxing!